Mediamente il rischio di zona gialla colpisce, più o meno, tutte le regioni. Credo che questo potrà essere certamente lo scenario in cui ci troveremo nelle prossime settimane. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa Atimeline, su Sky TG24. Fortunatamente, questo sistema a colori condiviso con le regioni ci permette una gestione puntuale della situazione, e le misure che abbiamo adattato, dal Green Pass alle ultime, ci permettono di garantire al nostro paese e dalle nostre attività, anche di fronte ad una situazione che potrebbe peggiorare, di continuare a lavorare e di rimanere aperti. Ci saranno solo delle limitazioni per coloro che, liberamente, decidono ancora di non sottoporsi alla vaccinazione, ha aggiunto. Questa è una pandemia che cambia di volta in volta lo scenario. E, un'epidemia dinamica e dunque anche le misure che il governo adotta, oltre che al modo di affrontarla e di gestirla, devono avere la solita dinamicità. Dobbiamo valutare, settimana per settimana, quelli che sono gli sviluppi, quello che è il quadro, e cercare di mettere in atto quelle norme, quelle regole, che permettano al nostro paese di proseguire in questo lento, graduale ritorno alla normalità, ha affermato ancora Costa.